Bello a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con Formula 1 2020 con la nostra Maullo Racing Signori, prima di partire con tutto quanto, vi devo comunicare quello che avevo detto anche nel video di ieri Che praticamente c'è stato un problema, io ho fatto il Gran Premio di Monza e non me l'ha salvato Infatti spero, incrocio tutto, che in questo momento stia registrando la Playstation perché il Gran Premio di Monza l'abbiamo perso completamente Siamo arrivati i secondi, abbiamo fatto un'ottima, vediamo se riesco a far vedere il risultato, il risultato stagionale Ecco, a Monza potete vedere l'ultimo risultato, siamo arrivati i secondi in cui all'ultima curva Bottas ci ha superato fregandoci il primo posto No, Verstappen scusatemi, ci ha superato fregandoci il primo posto e quindi ci siamo dovuti accontentare di una seconda posizione Mi dispiace perché era stato veramente un gran bel Gran Premio ma purtroppo la Playstation ha deciso di non registrare Detto questo signori, prima di partire con il video di oggi, sperando che tutto vada bene Io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che stanno a questa serie e a tutto il canale Vi ricordo di iscrivervi su Instagram dove mi trovate con maullo941 perché tramite le stories vi informo sulla programmazione dei video che escono in giornata E sulle live che facciamo sia su questa che sull'altra piattaforma, quella viola Detto questo signori, non perdiamo altro tempo, io mi faccio le prove libere a Singapore che saranno complicatissime off camera Ci vediamo direttamente in pista per farci le qualifiche Ok signori, ci siamo Fatte le prove libere che sono andate abbastanza bene Abbiamo fatto dei buoni tempi e delle buone prove Ora ci lanciamo sulle qualifiche senza perdere troppo tempo Signori, il Gran Premio è complicato Il Gran Premio è complicato, vedo difficile della possibilità di sorpassi Che già sono difficili di suo Praticamente non riusciamo completamente mai a farli Quindi l'obiettivo principale sarebbe quello di riuscire a fare una buona qualifica Riuscissimo a fare una buona qualifica sarebbe tanta roba Ma la vedo anche questa difficile perché è un Gran Premio complicato Signori, è molto stretto, se sbaglio la curva è finita Quindi ci sarà da valutarlo con calma Di cercare di fare il migliore che possiamo in qualifica Sperando di non partire troppo indietro Questo è l'obiettivo Ho lasciato l'ingegnere che parla in inglese Perché mi sta portando bene, almeno nelle ultime tre gare ha portato bene Quindi ho lasciato l'ingegnere che parla in inglese Speriamo che porti continui il nostro portafortuna Per questa finale di stagione che si vede molto intrigante Signori, perché stiamo andando bene Stiamo andando bene La Maulo Racing la stiamo ora sviluppando bene Spero che le migliorie che riusciamo a portare Riescano a farci continuare a far bene in questo finale di stagione Tra l'altro dovremmo anche iniziare a mettere qualche punticino da parte di quelli Sbagliato, non pensavo fosse una curva chiusa Invece era una curva comunque aperta Va bene Di quelli dello sviluppo Perché tra un poco ci sarà il cambio di regolamento Non so se qualcuno di voi ha visto altre serie di Formula 1 Tra un poco ci sarà il cambio di regolamento Ovvero, ecco a posto Siamo terzi Ovvero, ci bloccheranno un reparto di sviluppo E noi dovremo andare a ricomprarci tutti i pezzi Praticamente, una cosa del genere più o meno Quindi dovremmo anche metterci da parte qualche punticino Oltre a pensare a sviluppare solo la macchina Come se non ci fossero domani Dai Ego si, dai macchinina Quarti Occhio che questa è brutta Vedete, basta sbagliare una curva, signori Vi ritrovate a muro Quindi se dovessimo partire troppo indietro Vabbè, questa l'abbiamo tagliata pesantemente Superfluo, ci sta Un taglio ogni tanto ci sta, signori Se non saremmo troppo, troppo corretti Nei confronti degli altri piloti E non va bene Signori, siamo primi Signori, pole position a Singapore Tra un quiz e un'altra, una parola e l'altra Ci siamo presi da pole position a Singapore Porca miseria Bella così Bella così Abbiamo buone speranze, signori Abbiamo buone speranze Se facciamo bene la partenza Tu sta, Giorgino? Giorgino? Giorgino, do di ventesimo Mamma mia Giuliano Perché mi viene di chiamarlo Giorgino? Giuliano parte ventesimo Va bene Signori, attenzione 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 Dobbiamo fare una buona partenza Se facciamo una buona partenza Abbiamo buone chance Ok che abbiamo tagliato la curva in maniera pesante Ho scelto Ricciardo intanto come nuovo sfidante Che dovrebbe essere più facile da battere Quindi dovrebbe portarci più punti e fama Questo è molto importante Ok, ok, dai Dai Giuliano Dai che ci arrivi al livello 6 Entro fine stagione Dai che poi ti dobbiamo lasciare a piedi Perché devo prendere Ghiotto, signori Voglio una scuderia italiana L'anno prossimo punteremo al mondiale Con Papa Maullo e Ghiotto Che sicuramente sarà un ottimo chef Un ottimo cuoco Un buon gustaio E noi vogliamo persone positive E buon gustaio in scuderia Non vogliamo persone così poco sensibili C'è Giorgina? Giorgina mi ha già fatto delle interviste Già sta nascendo qualcosa di interessante Si, è già venuta nelle prove libere Giorgia a farmi le interviste Capisci? Mi cerca anche In quei momenti in cui registro off camera Oramai sono diventato il suo pupillo Mi cerca anche nei momenti off camera Quindi mi sa che ora si è timida Quindi qui a fine qualifica non verrà Infatti Quindi non perdiamo tempo, signori Questo continua a parlare Parla, fai quello che vuoi Noi scendiamo in pista Dai, è così Dai, è così Non so minimamente che ha detto Ma mi fido di lui, signori Non so minimamente che ha detto Ma mi fido di lui Attenzione Gran primo di Singapore che sta per partire Siamo primi 5 luci, luce accese 5 luci, luce accese Che cosa ha detto? 5 luci rossa accese Dai che si parte Dai così Dai così Dai così Subito in accelerazione Subito in accelerazione Bruciamoli tutti Bruciamoli tutti come se non ci fosse un domani Dai, 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 dai Più di stacco mettiamo subito Meglio è Dai, 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 dai Dai macchinina Dai macchinina Parti subito Abbiamo dietro Hamilton e Bottas Hamilton e Bottas Dai così Dai così Dai, dai, dai Dobbiamo cercare di mantenere la macchina Il più sano possibile E non farci superare Soprattutto Dai che Hamilton Abbiamo già Hamilton attaccato al fondo schiena Hamilton già ce l'abbiamo attaccato al fondo schiena Mannaggia a lui Non ci aveva di meglio di fare Che attaccarsi al nostro fondo schiena Subito così Deciso Dai così Dai macchinina Dai macchinina Corri Dai macchinina Corri Dimostriamo che possiamo starci in queste posizioni Dai macchinina Eh vabbè dai Ma ce l'ho incollato A me Hamilton Ma te scolli un poco Mamma mia Hamilton mio Te devi scollare un poco Dico Che c'è? La colla vinilica Praticamente Con l'attac Si è attaccato Non mi lascia più No, no Occhio Lo curva che brutta Ok Accelazione 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 Cala lì Ok Calma 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 Buono Così Dai 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 Easy Busy Lemos Squeezy Easy Busy Lemos Squeezy Easy Busy Lemos Squeezy Ok Dai Questo tratto L'abbiamo Fatto Benissimo Questo tratto L'abbiamo Fatto Benissimo Riuscissimo A fare Bene Le curve Riusciremo A mettere Di stacco Fra noi E gli altri Piloti Abbiamo fatto Il miglior Giro Buono Così Subito Subito Così Partenza Alla Grande Dai Così Qui che tagliamo Leggermente Non se ne accorge Nessuno Va bene Subito Montare Da sorpass E ce ne andiamo Montare Da sorpass E ce ne andiamo Dai Così Dai Così Dai Dai L'abbiamo Presa Un poco Larga Però Va bene L'abbiamo Presa Un poco Larga Però Va bene Risparmiamoci Il modello A sorpass Per dopo Dai 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 È terribile Sto gran premio Signori Io non Lo sopporto Troppe curve Va bene Non sono tanti I gran premi Che sopporto In verità Dico Molti Veramente Non 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 Li sopporto Non Non avrei Potuto fare Il piloto De Formula Perché Dico I gran premi Sono No Tagliata terribile Ma non Se ne accorge Nessuno Va bene Così Non Se ne accorto Nessuno Scarichiamo La modella A sorpass E evitiamo Di farci Superare Qui abbiamo Frenato Un poco Troppo Decisamente Sì Però Preghiamo Bene La corda Della curva Ok Niente Hamilton Si è attaccato Di nuovo È Un tipo Affettuoso Hamilton Signori Hamilton È un tipo Affettuoso E noi Ce lo teniamo Per la sua Affettuosità Dai 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 Accelera Accelera Ok Questa L'abbiamo Fatta pure Bene Dai Così Dai Così Dai Così Questa Questa Qua c'è La frenata Ok Dai Piglia la giusta 1 2 1 2 Desta Sinistra Desta Sinistra Sto vomitando Signori Quanti cambi Di direzione Ci sono È una cosa Assurda Dai Che l'abbiamo Fatta bene Anche Questa Volta Dai Che l'abbiamo Fatta Bene Questo 1 2 Veloce Dai Così Taglialo Questo Vedete Certe volte Non mi dice niente Sui tagli di curva Certe volte Mi ammonisce Questa cosa Ancora Non lo capisco E non la capirò Bene Dai Così Dai Così Abbiamo fatto Il nuovo Miglior giro Il giro Più veloce Del gran premio Bello Qui abbiamo tagliato Drasticamente Ok Curva Dai Dai Scarica La motore La sorpassa E prendiamo un po' Di vantaggio Dai 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 Ma non si possono ammazzare Fra di loro A superarsi No No Devo rompere Per forza Le scatola A me Vogliono per forza La prima posizione Non possono giocarsi Secondo Terzo E quarto posto No No Vogliono per forza Il primo posto Vogliono per forza Il mio posto Tutti ambiscono Al posto Della maulo racing Signori Tutti vogliono Quello che ha La maulo racing Ovvero Il primo posto E una grande vettura Che sta crescendo L'anno prossimo Vinceremo il mondiale Signori L'anno prossimo Punteremo il mondiale Per forza Anche perché Dico Non possiamo fare 70.000 stagioni Dico Non è l'anno prossimo Dico Mazzina Potremmo fare Un'altra stagione Potremmo fare Un'altra stagione E cercare Di portarci a casa Il mondiale Il costruttore Ma più di tre stagioni Non penso Che faremo Signori Anche perché Dico Poi diventa Molto ripetitivo Dai è così Buono Frenna 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 Questa curva È quella terribile Buono Così Dai che l'abbiamo fatta bene Apri tutto Dai 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 Emilton è vicino Emilton è vicino Signori Emilton è vicino Ma riusciamo a tenerla a bada Buono così Riusciamo a tenerla a bada Facciamo la curva Bella 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 Emilton è sempre vicino Aia 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 Bello che se qui io Nel momento di cambio traiettoria Dovesse esserci lui In mezzo della traiettoria Mi fa volare Che neanche rovazzi No 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 Non ci voleva L'alettone è rotto Non ci voleva Signori L'alettone è rotto Non ci voleva Ok Sì Sì Ho tagliato un poco troppo Va bene Va bene Non rompere le scatole Abbiamo rotto l'alettone La rottura dell'alettone Non ci voleva Signori Mannaggia Al penultimo giro Siamo al penultimo giro Siamo al penultimo giro Dobbiamo difendere il difendibile Dobbiamo difendere il difendibile Dai Così Dai Così Dai Così Dai Così Dai 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 Mamma che sono vicini Sono vicini Sento il loro fiato sul collo Signori Sento il loro fiato sul collo No Ma li sento proprio Proprio Damma mia Che è successo Bandiera verde Bandiera verde Non ho fatto niente Io signori Io non ho fatto nulla Non so cosa sia successo Ma io non ho fatto nulla Non venite a dare la colpa a me Perché io non ho fatto nulla Io ero nella mia traiettoria Bello tranquillo Che stavo a fare la curva Che abbiamo dietro adesso Verstappen Verstappen mio Impara da Hamilton Stai dietro Non rompere le scatole Verstappen mio Non rompere le scatole Verstappen Verstappen Su 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 Dai 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 che diventiamo grandi amici Dai che diventiamo grandi amici Un giorno ti chiamo a correre per la Molo Racing Se fai il bravo lì dietro Se fai il bravo lì dietro Ti chiamo a correre per la Molo Racing Un giorno di questi Dai Dai Una stagione di queste Via 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 Veloce 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 Dai Dai Frena 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 Ok Dai che è andata bene Dai che è andata bene Allora la curva di qua C'è l'1-2 veloce Ok Io devo frenare Perché non ho più l'alettone signori Non ho più l'alettone Quindi non posso Oh mamma Abbiamo frenato troppo Abbiamo frenato troppo Abbiamo frenato troppo Questo è difficile Senza l'alettone Va bene Va bene così Va bene così 1-2 destra sinistra dai 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 così frena 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 facciamo noi l'andatura dai così accelera 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 mamma mia siamo andati a prendere le fragole torna in pista ok ce l'abbiamo fatta ultimo giro signori abbiamo fatto il giro più lento di tutto il Gran Premio ma ce ne frega poco ultimo giro signori mamma mia cardiopalma ho le mani tutte sudate non so più cosa sto dicendo non riesco a coordinare parole e movimenti dai così ultime curve un errore ora non me lo potrei mai perdonare un errore adesso non me lo potrei perdonare né ora né mai né ora né mai dove stai andando? zio levati mamma mia appiccicosi ve la do dopo l'autografo ve lo faccio dopo signori adesso no stiamo correndo dopo ci vediamo nel paddock vi do l'autografo vi do anche qualche ruota vi do tutto vi do tutto ma adesso dovete stare al vostro posto mannaggia delle vostre sorelle dai così non so se questi piloti abbiano delle sorelle se in gente non mi sono mai informato ma tutto il rispetto per loro ma mannaggia le vostre sorelle statevi dove dovete stare vi dovete stare dove dovete stare dietro no l'abbiamo presa leggermente larga dai dai apri tutto apri tutto apri tutto dai dai così dai così dai così dai così scarica 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 frenata buona frenata buona tagliamo la curva va bene va bene va bene scarica scarica a terra scarica a terra ok calma caracello 1-2 destra sinistra destra sinistra destra sinistra abbiamo quasi finito la benzina ma chi se ne frega l'importante è che non mi finisce proprio negli ultimi giri perché sennò potrebbero scendere i santi a spingere la macchina al traguardo dai così dai così dai così no 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 dai dai signori signori scrivetelo nel calendario chiamate le vostre zii chiamate i parenti signori abbiamo vinto il singapore abbiamo vinto il singapore signori abbiamo vinto il singapore un triste di grande così grande così quanti fuochi d'artificio abbiamo vinto il singapore signori magica vittoria togli così se non mi dice pilota del giorno dico ti tiro un pugno che ti stendo no pilota del giorno con ma 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 vabbè so 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 appattate signori so appattate la Renault gli dà le bustarelle sicuro dai dai così guarda lo zio guarda lo zio che è contento grande vittoria seconda vittoria stagionale per la Maullo Racing dopo spa si porta a casa anche la vittoria a singapore peccato per il secondo posto a monza se non avremmo potuto fare terza vittoria di fila grande così grande così la Maullo Racing c'è signori la Maullo Racing c'è bella così guarda guarda la gioia lì degli appena arrivati non ne conosco nessuno però fanno un buon lavoro fanno un buon lavoro guardalo come festeggia io sto parlando sopra il telecronista ma chi se ne frega altamente secondo Hamilton terzo Bottas dai così alzalo vittoria che siamo simpatici sorriso a 32.000 denti dai così festeggiamo festeggiamo bella raga dai dai Hamilton un po' così un po' così un po' così Bottas non lo caga nessuno Bottas non ci caga non lo caga nessuno c'è rimasto male c'è rimasto male Bottas ma noi chi se ne frega altamente bella così stretta di mano per tutti ora andiamo a casa a festeggiare con Giorgia ah no non lo dovevo dire Giorgina vieni qui Giorgina dai intervistami sono tutto tuo sono tutto tuo Giorgia intervistami dove è arrivato Giuliano diciottesimo dai bravo Giuliano Verstappen ultimo ok non è colpa mia sicuro non è colpa mia sicuro io non c'entro nulla Giorgina eccola sì ovvio soprattutto se mi dai il tuo numero telefono sarà una gran soddisfazione nessun segreto ci voglio una grande macchina una grande squadra nessun segreto c'è una grande macchina una grande squadra è ovvio settimana scorsa no la nostra affidabilità dai parliamo bene dell'affidabilità sono davvero impressionato del lavoro ma non so neanche dove siano in classifica Giorgia 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 no se n'è andata di nuovo ma dai che devo fare di vincere un gran premio a farmi dare il numero telefono va bene signori detto questo ci sarà tutta la schermata finale che ovviamente vi vi faccio saltare detto questo signori io vi ringrazio per guardare questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i suggerimenti e per il supporto che è dato a questa serie noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto o per una prossima live bella raga ciao